Una scuola finlandese americana di studi folclorici, che si è chiamata storico-geografica, ha mostrato come lo schema narrativo delle leggende povolari si possa trovare pressoché identico in paesi lontanissimi tra loro, che non hanno mai avuto momenti di contatto. Come mai? Perché la forma coscienza che ha emanato quei popoli in un dato momento storico è la stessa. Ne deriva che le leggende di quei popoli, che pure non si sono mai conosciuti, esprimono un livello di evoluzione pressoché simile.